La dieta migliore per chi ha il tumore è esattamente la dieta migliore per prevenire qualsiasi malattia. Bisogna fare riferimento a una dieta sostanzialmente equilibrata, senza eccessi, senza difetti. Un eccesso di proteine può essere anche dannoso, così come un eccesso di carboidrati può essere dannoso. La dieta migliore è una dieta studiata ad personam, possibilmente con un buon bilancio di tutti i nutrienti. Sono dell'idea che bisogna in generale ridurre i carboidrati semplici, quindi gli zuccheri semplici, non solo perché possono favorire certi tipi di tumore, ma in generale perché non vengono ben utilizzati gli zuccheri semplici e scatenano delle risposte insulinemiche eccessive. Quindi fondamentalmente è una dieta equilibrata, molto ricca di proteine nobili e qui possiamo anche discutere sulle scelte vegetariane o animaliste, chiamiamole così, degli alimenti. Io sono per una dieta onnivora perché ritengo che sostanzialmente quando gli aminoacidi entrano all'interno del nostro organismo non hanno più appartenenze a un genere animale o vegetale, ma sono solo aminoacidi. Questo è un dato molto chiaro. Sappiamo anche che le proteine nobili sono tipicamente proteine animali. Questo non vuole dire che per forza di cose una dieta per favorire un paziente oncologico deve essere necessariamente carnivora. È un pochino più complesso se uno vuole fare una dieta vegetariana, che sicuramente dal punto di vista preventivo è più vantaggiosa rispetto a diete onnivore per quanto riguarda la prevenzione, quindi più vegetali, più frutta, verdura, eccetera. Però nel momento in cui abbiamo un tumore dobbiamo assolutamente cercare aminoacidi essenziali e mettere insieme aminoacidi essenziali provenienti dai cereali e dai legumi, che sono la fonte principale, non è così facile perché non abbiamo studiato per essere vegani o vegetariani millenni come hanno studiato gli indiani. Dobbiamo riuscire ad adeguare le nostre competenze gastronomiche con quelle nutrizionali. Quindi anche chi vuole fare una buona dieta vegetariana nel contesto della malattia oncologica deve cercare di mettere sempre insieme legumi e cereali. Perché questo? Perché i cereali sono carenti di alcuni aminoacidi, perché i legumi sono carenti di altri aminoacidi. Se li mettiamo insieme abbiamo dei buoni risultati. Io sono dell'idea, ad esempio, che le uova rappresentano una fonte proteica perfetta perché hanno un ottimo contenuto di aminoacidi e l'uovo è un alimento semplice, un alimento tra l'altro molto leggero da digerire perché bisogna anche pensare che chi affronta una terapia oncologica spesso e volentieri ha dei problemi a carico dell'apparato digerente. E anche lì, se vogliamo mettere legumi e cereali, molto spesso c'è gonfiore rispetto a chi invece si mangia un ovetto e in quel modo riesce a ottenere, ad esempio, dei nutrienti. Così come il latte, io sono assolutamente contrario al fatto che il latte venga considerato un cibo pericoloso per chi ha tumori. Non è provato da nessuno studio scientifico, se non da pochissimi articoli di vecchissima data in cui di fatto il latte non era assolutamente il punto chiave della ricerca.